Entrerà nel vivo a febbraio con la requisitoria del sostituto procuratore generale Miriam Cantone il processo in appello denominato Idria. Sei gli imputati a vario titolo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da sparo, spaccio e diversi reati contro il patrimonio. Quasi 30 all'ammontare complessivo degli anni di carcere, inflitti in primo grado dal GUP Giovanni Cariolo a Vincenzo Musumeci o Alid Labadi Riccardo Calabretta, accusati di aver fatto parte di un'associazione che con base annunziata frazione di Mascali spacciava principalmente marijuana nel comprensorio ionico. Oltre a loro hanno presentato ricorso in appello anche Francesco Bonaccorso, Davide Catanzaro e Francesco Costa, condannati rispettivamente in primo grado a tre anni e sei mesi, due anni e due anni e sei mesi. Il 24 febbraio davanti alla corte d'appello di Catania presieduta da Giuliana Fichera prenderanno in via anche le ringhe difensive.